Non esattamente. Grazie ancora, a presto e noi passiamo la parola a Don Antonio Mazzi. Ciao Don, buongiorno. Il quale anche lui, con lo scuso del Natale, tenta di far riflettere tutti, anche io, senti che bella? Il principale compito dell'uomo nella vita è dare alla luce se stesso e quindi... Eh, è così, hai ragione. E come diceva Tacore, ogni bambino che nasce ci fa capire che Dio non è ancora stanco degli uomini, o no? Che noi non siamo ancora nati del tutto, capito? Non è male questo. Anche noi grandi, anche noi grandi, anche tu caro don che hai appena compiuto 50 anni. Anch'io, sì, anch'io, ma non ti sembra vero di farmi la predica. Eh, assolutamente. Oh ragazzi, ricordate 24 Sela, la messa del Don.